ciao ciao ma che carina siete venuti a vedermi a ciao abbiamo attirato l'attenzione ma che belle caprette ciao carina bellissime diamo questo che anche tu sei proprio bella sì arriva anche una gallina adesso è un'altra capretta ma come siamo belle si va bene ok sei bellissima anche tu ma quante ma che carino quel capretto ha trovato un attimo appoggio e guardate dove si è messa la capra fantastica sono divertentissimi cosa vuole brucana la pianta? sì qui sono all'interno di un green center hanno la fattoria didattica molto bella ciao 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 volete farmi filmare anche voi sì eh sì abbiamo attirato un po' l'attenzione ecco che tornano le occhi sono veramente bellissime qui siamo in zona pollame qui è come un'è qui cosa fa lui è scelta un po' l'attenzione ecco che tornano le occhi qui è bellissime qui la rosa e l'attenzione ecco che tornano le occhi Pagiano dorato